Dalla guerra alla cittadinanza globale, dai progetti di impatto sociale sino all'arte. E' così tornato il Festival Internazionale del Conflitto di Rondine, Utopic Fest, giunto alla sua sesta edizione. Si riapre questo appuntamento dopo i due anni della pandemia, quindi direi che abbiamo constatato quanto è grande la voglia di riabbracciarsi. L'abbraccio più potente a Rondine è quello degli ex nemici che sono tornati nei territori di guerra e che tornano per riabbracciarsi e continuare la storia di impegno civile. E' stata una festa anche che non dimentica nulla di quello che stiamo vivendo nel nostro tempo. Noi qui abbiamo, come si sa, i giovani anche del conflitto russo-ucraino, abbiamo tante altre guerre presenti, però il fatto che dei giovani non si arrendano alla logica della guerra, questo è il motivo della speranza e della festa. Centrale è poi anche il tema della scuola che oggi trova in Rondine un alleato che ha già messo a disposizione il suo metodo. La sezione Rondine infatti è un vero e proprio indirizzo scolastico già sperimentato da due licei aretini e che da settembre sarà attivato da 12 scuole in tutta Italia. Ci siamo impegnati in questo tempo, abbiamo formato 230 docenti da tutta Italia, abbiamo formato con l'Università Cattolica del Sacro Cuore 15 tutor, una figura assolutamente nuova da immettere nel panorama della scuola italiana e quindi siamo pronti per il suono delle campanelle a settembre. Spazio infine all'arte con l'inaugurazione della mostra dedicata a Nadia Scialova, artista ed ex studentessa russa della Cittadella della Pace scomparsa nel 2021. Era come un'onda che ha portato con sé questa energia e ti ha chiesto di farne parte, ha chiesto di attivare qualcosa dentro di te e fisicamente l'abbiamo persa, ma chi l'ha conosciuta tutt'oggi e credo per il resto della propria vita continuerà questo movimento che lei ha innescato dentro di noi. Lei ha tenuto a dire sempre che io pianto un seme dentro di te, state di annaffiarlo e lo stiamo facendo. Quindi il suo percorso procede, il suo percorso è vivo. Grazie a tutti.